Tutti con il naso all'insù e con lo sguardo alla colonnina di Mercurio per capire che tempo farà a Natale, curiosità tradizionale alla quale si assomma quest'anno la voglia di vedere cadere un po' di neve almeno in quota, voglia che è decisamente più marcata tra gli operatori del settore turistico. I gestori delle piste di sci e degli impianti di risalita hanno fatto i salti mortali in questi giorni per preparare i tracciati in vista dell'arrivo dei vacanzieri di Natale e fine anno, c'è però il rischio che il loro lavoro venga rovinato da un innalzamento delle temperature. I modelli prevedono anche poi per la settimana prossima soprattutto per martedì e mercoledì un aumento, un nuovo aumento della temperatura in quota quindi le condizioni per fare neve artificiale non sono proprio ideali. La domanda sorge spontanea, quando arriverà l'inverno quello vero? Attualmente almeno fino ai giorni festivi non arriva né della neve né temperature molto basse, poi verso la fine dell'anno potrebbe nevicare anche diciamo in gran parte dell'Alto Adige, naturalmente attualmente le previsioni a così lungo termine sono abbastanza incerte. E' bene dire che la situazione che si registra attualmente in tema di meteo in Alto Adige è analoga a quella di molte altre aree dell'arco alpino. Attualmente su tutto l'arco alpino c'è poca neve, devo dire che in Alto Adige ne abbiamo soprattutto in quota, siamo ancora fortunati, per esempio al Nord Tirolo lì la quantità della neve è molto minore.